AWC, Portuguese Tourbillon, eleganza e precisione del tourbillon. Il tourbillon è una meraviglia dell'orologeria, che combina bellezza e precisione. Si tratta di un meccanismo che fa ruotare il bilanciere, in una gabbia che compie un giro completo ogni minuto. Questo movimento ha due effetti. Da una parte, crea un effetto visivo affascinante sul quadrante, che mostra la complessità e l'armonia della meccanica. Dall'altra parte, annulla gli errori di marcia causati dalla forza di gravità, che agisce diversamente a seconda della posizione dell'orologio. Il Portuguese Tourbillon Retrograde Cronograph è il primo orologio della famiglia dei Portuguese ad abbinare un tourbillon volante all'indicazione retrograda della data e al cronografo con funzione flyback. Ancora e ruota dell'ancora sono stati provvisti di un rivestimento speciale, che riduce l'usura e migliora il flusso energetico nel movimento. Abbinando calendario perpetuo e tourbillon, il Portuguese Perpetual Calendar Tourbillon riunisce su uno stesso quadrante due sfide orologere tra le più complesse. Il tourbillon è realizzato con 82 singoli componenti. L'indicazione delle fasi lunari del calendario perpetuo è così precisa che dovrà essere corretta di un giorno solo dopo 577,5 anni. Il Portuguese Sideral Scafusi ha un quadrante che riprende il design classico dei Portuguese, ma nasconde una complessità meccanica senza pari. Oltre a indicare l'ora solare, questo orologio mostra anche l'ora siderale, cioè l'ora basata sul movimento delle stelle, che è diversa da quella solare di circa 4 minuti al giorno. L'ora siderale è utile per gli astronomi e per chi osserva il cielo notturno, perché permette di individuare le costellazioni in ogni momento dell'anno. Il quadrante indica anche il giorno e la notte, il sorgere e il tramontare del sole e della luna, e la mappa celeste personalizzata in base al luogo di residenza del proprietario. Questa mappa è visibile sul fondello dell'orologio, dove si trovano anche altre indicazioni. La riserva di carica, che è di 96 ore, il calendario perpetuo, che tiene conto degli anni bisestili, e il tourbillon, che è una delle compiecazioni più prestigiose in orologeria. Alcuni di questi esemplari, prodotti in edizione limitata, sono oggetti di lusso e di prestigio, che esprimono la personalità e il gusto di chi lo indossa.